Musica E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati qui su Gran Turismo Sports Pronti per andarci a continuare quelle che sono le sfide e missioni Precisamente con la fase 5, dove oggi ci faremo le prime 7 tappe Perché la prova numero 8 è una resistenza di 15 giri, gruppo 4 in Alsazia, villaggio Dunque una gara endurance da 15 giri in Alsazia, che è un circuito non troppo corto Dunque la farò in un video a parte, quest'oggi ci concentreremo su quelle che sono le prime 7 prove Quindi ci sono gare, rally speciali come ad esempio questo qui, il Northern Isle Festival Che è quello che dobbiamo andarci a fare adesso Evento garage, quindi dobbiamo scegliere un'auto nel garage L'auto non è impossibile di partecipare, grazie a Dio Selezioniamo sempre la mi stupisci da rally e andiamo dentro, con la prima prova Ok, eccoci qui Quanti a partire con il controllo trazione 1 Non so cosa devo fare, devo girare di qua, ok 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 Un attimo di pazienza per sapere dov'è che devo andare Ah dovevo girare così, vabbè ho fatto oro completamente a casa Va bene, va bene, ok Ce lo teniamo Non ci ho capito poco o niente Però va bene Eccoci qui, superare ad Alsazia, seconda prova con la Alpine Vision Gran Turismo Siamo ad Alsazia dove qui faremo i 15 giri Quindi diciamo che testeremo un po' come la pista Anche se comunque l'auto che stiamo utilizzando è molto molto diversa Mortacci tua, quando in te levi l'arca Ok Si riaccelera, queste sono auto veramente ed estremamente veloci E molto facili insomma da governare Più che facili si guidano molto bene Facili da guidare, non da governare ecco Si guidano veramente da Dio Non è la prima volta che l'utilizzo Ho fatto delle gare con la R18 dell'Audi Che mi hanno regalato qualche episodio fa Dai che mi devo rinfilare all'interno Siamo in quarta posizione Dobbiamo arrivare primi Mi infia, ok Perfetto Belli veloci si riesce l'Archi Si rimette in terza Si guida veramente ottimamente ragazzi Guardate che spettacolo Qui adesso noi ci infileremo qui all'interno Non avrei voluto colpirlo ma Ciccia, pazienza Comunque si accelera e si può vincere signori Eccoci a Lord Steve Mile Guardi tre giri qui a Willow Springs Dove dobbiamo recuperare la nostra settima posizione iniziale Ed arrivare in testa Ovviamente abbiamo tre giri per recuperare sette posizioni Dovremmo farci agevolmente Controllo d'azione lo lascio a uno Anche se con queste auto È un po' un rischio perché Il posteriore parte molto fisi Molto facile Attenzione a questo tubo Perché è di una lentezza disarmante Ok Bene così Qui si frena Attenzione Si gira così Si accelerano andando un pochino fuori Ma si rifrena Bene così Gara molto lenta Non taci tua Di chi in tutti c'è mai Potevo prendere o questa O la Genesis Gruppo B Che ho comunque Però Con la Miss Tu Bici Mi trovo Abbastanza meglio Attenzione Questi che frenano Così a caso Mi sembra di non giro per strada Che la gente non c'è un cazzo davanti In chioda Cosa in chioda E cammina Gesù Ma è allora Meree Da come l'abbiamo tenuta Ok Andiamo a prendersi la Subaru Ok All'esterno Aggressivi Ok E qui adesso siamo all'interno Quindi si frena Si mette in seconda Si gira Olè Ok Adesso facciamoci I giri belli Ignoranti Come Come volevamo farci noi Ehi merda Ok Bene 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 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Diciamo che Lo so che sono abbastanza Ripetivo Ok bene Ok vai Ok eccetera Però Raga Che se Oh Muttacchiti Qui si Qui mi devo allargare Un po' di più Se voglio evitare Di frenare Ma va bene Alla fine A noi ce ne fotte Poco niente Piano piano Giriamo in prima E si ascelera Vai così Ok Ok vai così Perfetto Tu Minchie Calma zio Calma Non è mai C'abbiamo le gomme Da corsa E già Già Andiamo in sovra A sterzo Così facilmente Penso se c'avamo Altri tipi di gomme Come andavamo A fagioli Dovevo mettere la trazione A 5 Ok dai Ci siamo Ci siamo Perfetto L'ho preso Molto tranquillamente Devo dire Ok di nuovo Nord Heil Festival C'è che chiudere la gara Nel tempo Ovviamente Mi devo un attimo Vedere Dov'è che dobbiamo andare Tipo ok Non dobbiamo fare così Ah ok Dobbiamo fare così Minchia Che bordello Raga Vai Vai che ci si prova Ok Vai Si parte Attenzione così Ok Ok 19.5 Va bene Va bene Difficile tenere il controllo Sulla pioggia Con le sportive mobile Tra l'altro Ma ce l'abbiamo fatta Va benissimo Eccoci qui in pista Signori Pronti a partire Mettiamo controllo Trazione a 1 Siamo con la Lexus Qui Arregli a tempo Al Tokyo Expressway Dobbiamo stare attenti A non fare il contatto Con le altre auto Fortunatamente Siamo in Diurna Lexus Che non dovrebbe essere Neanche troppo male Dico essere sincero Però insomma Non ha mai addosso A quest'alti Perché altrimenti Perdiamo un sacco Di tempo Il tempo Perché andiamo lenti E il tempo Perché perdiamo tempo Extra Nel tempo restante Tipo così Che non me l'ha contato Forse a 4 Trazione a 1 Però la Lexus Non è il massimo Però ce lo voglio provare Raga Uh Nicchia Ok 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 Comunque allora Dalla fase 6 Credo che Volendo La traiettoria Se possa Le va Volendo Però eh Adesso vediamo un attimo Perché più o meno Le piste C'è ma cazzo Madonna Ingovernabile Infatti abbiamo sempre Le sportive dure A me stanno Cazzo le sportive dure Ok L'abbiamo tenuta Pelo Pelo Minchie Ragazzo Drifta sta cosa Questa minchie Ma la posso comprare Per andare a fare drift Guarda che roba Effettivamente Non è male Ho già La Mustang Ce l'ho E auto da drift Con le sportive dure Drifta che è una meraviglia Questa pure Il suo ce l'ha Guardala che roba Quelli Libri signor Lo spettacolo E' perché Rally a tempo Capito Già basta la parola Rally E andrà a driftare Ok attenzione Attenti più che altro A parte scherzi A st'ultima curva del cazzo Qua che Minchie ho dovuto frenare A scampia Per riuscire a fare Sto cazzo di curva Fatta bene Vai così Ok Forse Non so mica Se ce la facciamo Eh Lo sai che Io non so Facete me passare Vai così Accelera zia Accelera zia Lever dalla scia Vai Vai no Forse ce la facciamo Forse 24 Si A solo 23 secondi Restanti Ce l'abbiamo fatto Un oro Particolare E' ingampandebile Gara monomarca Mercedes AMG Vi giocano turismo Sul Nubu King Due giri qui Nubu King GP Perché non l'avesse Nel duvito Insomma E sto usando Questa visuale Perché la Mercedes AMG Non ha Gli interni Dettagliati E non ha Neanche I frini Comunque si Non ha gli interni Dettagliati Oltre quest'auto Fino adesso L'ho Constatato Sul Sul Lexus Da corsa Quella comunque Piccolina Quella che Ti danno bianca Mi pare Come il proprio standard Non ha gli interni Dettagliati Io purtroppo Sono ancora Un po' Sconcertato Su questa cosa Che Non abbiamo Gli interni Dettagliati Su tutte le auto Adesso Diciamo che io Posso capire Su magari Un gran turismo Tipo il 6 Il 5 I gran turismo Passati Che Comunque Hanno 1500 auto Forse anche Di più O qualcosa di meno Non lo so Adesso è preciso In tutte le auto Magari Non si può fare Nel senso Magari Tanta perdita di tempo Anche se Però A mio avviso Non dovrebbe essere Un particolare problema Anche perché Vuoi mettere Una Fiat Panda Un pandino Con gli interni Dettagliati Quanto sia Su quanto è suggestivo Raga Intanto qui Occhio che perdiamo Il posteriore Ma comunque Possiamo stare qui A discutere Su questa Scelta appunto Discutibile Degli interni Dettagliati E semplificati Oppure possiamo Concentrarci Sul Superare Questi due Avversari Qui davanti Ci sono rimasti Solo questi due Ci è rimasto Solo quello lì davanti Da superare Ci manca ancora un giro Avevo constato Che comunque I freni Non ce l'ha Quindi iniziamo A frenare Abbastanza In anticipo Ok La potevo Dandare Leggermente di più Questa Va bene Adesso iniziamo Ad affrontare L'ultima curva Per rimetterci Su quello che è Il traguardo Per iniziare L'ultimo Giro Di quella Che è Questa Cara Ok Sono abbastanza Dietro Dai Ce la dovremmo Fare Più che altro Stiamo attenti Qui a staccare Perché se no Andiamo lunghi Come prima Iniziamo a frenare Bella Se incestava Forse la facevo Pure più veloce Per non andare addosso Ho dovuto Frenare Un po' più a fondo Uuuuh Dai 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 Bella Dai Bella Io ce la provo Io mi infilo sempre Lo dico Ok Vai così Vai che si affonda Diciamo che comunque Questa Questa visuale Non mi dispiace Diciamo che Io Grande Turismo 6 Generalmente Sciocchicchio così Insomma Con questa visuale qui Però ovviamente Per i video Utilizzo quella interna Perché comunque Più bella Insomma È Molto più Coinvolgente A mio avviso Diciamo che questa qui La utilizzo Per le Per le prove Delle gare online Perché mi permette Ho notato Mi permette Di Di abbassare i tempi Ovviamente I primi giri Me li faccio sempre Con la visuale interna Per abituarmi Alla gara Perché comunque Poi la pista La dovrò fare Con la visuale On board Come vedete Nei video Però ovviamente Una prova Qualche giro Visual on board La faccio Però ovviamente Poi il tempo veloce Diciamo che me la punto Su questa visuale Per cercare di arrivare Il più avanti possibile Che comunque poi In gara I tempi Un pochino Si abbassano Tanto qua Se parte sempre Siamo arrivati in testa Senza problemi E perfetto Si va a vincere Eccoci qui Signori Questa gara N600 All mount panorama Con la Nissan GTR Premium Fastback Personalizzata Con una livrea Della Skyline Di Paul Walker Into Fast to Furious Ovviamente Non l'ho voluta fare Sulla Skyline Perché La Skyline Ancora Non è disponibile Vi ricordo comunque Che ogni mercoledì Ormai credo L'avrete notato anche voi Ma se non ci avete fatto Più tanto caso Ogni mercoledì Esce una speed art Di qualche livrea Che faccio Su qualche vettura Quindi più o meno Una settimana Ce l'avete Quindi iscrivetevi Per non perderne nessuna Ok Ottima frenata qui Mount panorama Pista che mi piace La Nissan GTR Si guida anche Abbastanza bene Quindi vediamo Insomma Di riuscire ad essere Uh Questo passino Bello Aggressivo E anche un pochino Rischioso forse Ok Attenzione Comunque sempre Al contello Di trazione Che è A1 Qui anche Ci infiliamo Mettiamo in testa Non serve neanche Troppo frenare Devo essere sincero Ok Merda Ok perfetto Allora Qua ci infiliamo Di ignoranza Eh Che miseria Mi è partito Il posteriore Qua Mi è partito Il posteriore Non sono riuscito A tenerla Pista stretta Purtroppo Qualche errore Qui si costa caro Perché Si va a sbatter Non c'è la pista Larga Ok Siamo in terza Posizione Si accelera Si accelera Ora Io non so Come ce la Caperemo Con i freni Di quest'auto Perché A fine qui C'è Quella S Che danno Un pochi problemi Se è frenata Troppo tardi Quindi io Quasi quasi Me la freno Anche un po' Prima di questa curva In caso Giusto per allentare Un po' Tre Due Vabbè Forse la curva C'è se può Arrivare Magari non frenando Se lascia solo Acceleratore E una volta Finita la curva Si inizia a frenare Dovremmo Credo Riuscire A farcela Tranquillamente E la madogna Che sorpassino Al porscherino Ladies and gentlemen Incredibile Vai così Vai così Ok Attenzione Che qui adesso Abbiamo la McLaren Qui davanti Che ci darà Non pochi problemi Perché è un'auto Veramente Veramente Molto veloce Ce l'ho anch'io In frenata In curva Lascia un pochino A desiderare Nonostante Ti metto le gomme Da corsa Supermorbidi In velocità Se piglia No Lascia aperte Che probabilmente Qui Mamma mia Mi stavo quasi Infartare Che non riusciva A frenare la curva Mi chiamo Lascia aperte Che qui Va un pochino Più piano Ma se andasse Come deve andare Credo che Per prenderla In velocità Non credo Riusciremo A farcela Con la Nissan GTL Ok Bella e veloce Queste serie di curve Bene così Perfetto La degniamo Scendiamo la Adesso qui Si frena un pochettino Si mette in terza Perfetto Ok Ci dovremmo essere Dai Ultima serie di curve Ultima serie di curve Tratta in discesa Prima ecco Perché vedi Ho messo leggermente Adesso la ruota Sul levo Solo che andavo piano E Il posteriore è partito Ma sono riuscito a tenerlo Prima Siccome Ero in velocità Col cacchio Quello che l'ho tenuto Il posteriore Vai così Dai Bene Bene Lo c'è più Su questa curva Proviamo adesso Magari A A frenare Come avevo detto Prima Se non vogliamo Ni schiacciare La facciamo Come prima Intanto siamo In testa Dovremmo riuscire A farci Ad esempio Qui Levo colpo Di freno Ok Sì dai Più o meno È così da fare Leggero colpo di freno E qua Se si arriva troppo lunghi Raga È un macello Ritorno a pista Purtroppo La pista La conosco So com'è Quindi so Che il problema È quello Anche ste curvette A 90 gradi a gomino Ragazzi Sono veramente Qualcosa di infame Ma Ce l'abbiamo fatta Siamo arrivati In testa Passiamo sotto il traguardo E completiamo Anche Questa Spallente da vittoria Con una medaglia d'oro Non indifferente Devo essere sincero Guarda che spettacolo Questa Nissan GTR In tutto il suo Splendore Con questa Livrea Si prosegue Ma abbiamo finito Questo episodio Sì perché adesso Dobbiamo andarci a fare Solo l'ultima gara Ristenza su 15 giri Ad Alsazi Quindi intanto usciamo Usciamo E andiamo a prenderci Quella che è La nostra vettura giornaliera Poiché abbiamo fatto i chilometri Ha ricevuto un'auto magica L'allenamento giornaliero Completato Che macchinina Ma dai Dammi una bella macchinina Please Sì Ok Ok Aston Martin Sì Sì I 15 giri Ad Alsazia Quindi la gara numero 8 Della sfida missioni fase 5 Questa gara qui Gruppo 4 Di 15 giri ad Alsazia Quindi Prima di un video C'è un like Un commento Iscrivetevi Se l'avete ancora fatto Ci vediamo nel prossimo episodio Di Gran Turismo Sport Con questa Gara Resistenza su 15 giri E Ad un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti